Ciao! Siamo insieme per ricordarvi l'appuntamento di domani alle 9.30 e come ci siamo raccontati nelle scorse dirette avremo così chiacchierato sui gruppi che hanno fatto la storia un po' anche della musica come vedete io qui ne ho uno, sono gli Who e questo è l'album storico Quadrofigna e tra l'altro un particolare perché come vedete all'interno è proprio un libro con quella che è stata un po' la storia anche se vogliamo dei moz perché gli Who e Quadrofigna era proprio legato a quel periodo lo ascolteremo e ascolteremo sicuramente anche altri gruppi nel frattempo il mio saluto va anche dalla mia redazione da casa come usiamo a dire noi quando lavoriamo in remoto come si dice perché in queste giornate di emergenza oltre al mattino andare proprio in radio negli studi per ricompagnare il pomeriggio devo registrare anche delle interviste con i sindaci e tutto quello che è legato all'emergenza e così in questa casetta, in questo studio che è un magazzino, è un po' di tutto c'è un po' di tutto dove stiro, dove c'è praticamente la mia, come si dice, dove metto tutto quello che mi serve la dispensa, ecco, e i miei bicchieri, come vedete la mia collezione di bicchieri di birra tutti originali e non comprati perché sono stati presi nei posti dove ho bevuto la birra quindi qualche volta li ho anche presi così ma va bene, non diciamolo troppo, ecco mi sono ricavata un posticino per potermi fare la mia redazione e questo è un po' quello che alla fine ci dobbiamo organizzare, come ci dobbiamo organizzare un po' tutti chi lavora con il proprio smart working e io lavoro in questo modo va bene, comunque, spero abbiate passato una buona Pasqua e una buona Pasquetta quasi finita, le ferie e le feste sono quasi finite domani si ritorna a lavorare ma domani saremo nuovamente insieme per raccontare ancora musica e passare qualche vinile quindi vi auguro una buona serata non mangiate ancora troppo cioccolato perché lo so che avete avanzato delle uova di Pasqua e anche dei pezzi di colomba mi raccomando, solo più un pezzettino piccolo perché poi vi tocca fare ginnastica, va bene? a domani! ciao!